Buonasera a tutti Marco, bentornato con noi. Buonasera a tutti voi. Buonasera a tutti. 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 Ma tre anni fa, diciamo, perché poi quattro anni sarà l'anno prossimo, tre anni fa l'accordo tra Obama e Clinton stesso, il marito di Hillary, è stato quello che una volta terminata la seconda legislazione per Obama, perché negli Stati Uniti non ci si può ricandidare più di due volte alla presidenza degli Stati Uniti, ebbè l'accordo era che toccasse a Hillary Clinton. Ovviamente poi ci saranno le primarie del Partito Democratico negli Stati Uniti, così come assisteremo l'anno prossimo alle primarie del fronte concorrente, cioè quello del Partito Repubblicano. E anche lì ci sono più candidature interessanti. Quelle principali potrebbero essere proprio, per cui qualcuno giustamente in modo critico sta parlando di dynasty, e cioè di dinastia. Perché a questo punto il gruppo attorno a Clinton, la famiglia Clinton, che ricordo, Clinton è stato per ben due mandati, anche lui, presidente democratico degli Stati Uniti, ebbè adesso la moglie a sette anni, a più anni di distanza, si ripresenta e ovviamente però dovrà vincere le primarie interne al Partito Democratico. Con quale eredità? Beh, io credo un'eredità abbastanza interessante che lascia Obama sul piano interno, anche se nulla è scontato. Perché intanto Obama è riuscito quello che Clinton e Hillary stessa non erano riusciti a portare a casa quando ci fu appunto gli otto anni di Clinton, e cioè la riforma sanitaria. Oggi più di 40 milioni, che non è poco, di cittadini statunitensi possono avere accesso a un costo relativamente basso, perché lì si paga negli Stati Uniti la sanità, possono avere accesso più di 40 milioni a una riforma sanitaria che ha incluso una parte significativa di cittadini americani che prima non poteva accedere ai servizi medici, alle medicina, al servizio sanitario degli Stati Uniti, che ricordo è un servizio praticamente privato. Ma appunto queste regole inserite proprio da Barack Obama permettono a una fascia molto più ampia di cittadini, che non se lo potevano permettere prima, perché di basso reddito, accedere al servizio sanitario negli Stati Uniti. E questo è una bella conquista. Una conquista, tra l'altro dico con una grossa battaglia contro i repubblicani. Assolutamente, uno scontro molto duro perché i repubblicani tuttora non sono d'accordo su questa riforma che a suo tempo definirono socialista per gli Stati Uniti. Così come lascia una situazione economica che non è quella europea. C'è una ripresa economica, ci sono milioni di nuovi posti di lavoro, anche se premi Nobel progressisti e importanti, come Krugman per esempio, criticano il fatto da sinistra. Diremmo così che Obama ha sì aiutato la ripresa economica negli Stati Uniti, ma non ha fatto riforme strutturali più giuste, che in qualche modo mettessero a freno la voracità della finanza mondiale che ha la sua roccaforte in Wall Street. Mentre in politica estera ci sono successi come grandi problemi aperti. I primi successi che possiamo dire in politica estera sono recenti, sono il dialogo con Cuba, che è una cosa storicamente rilevantissima, e l'altro sono l'accordo in via di definizione sul nucleare iraniano. Sono due successi importanti che i repubblicani digeriscono a fatica negli Stati Uniti, ma che permettono agli Stati Uniti in politica estera di avere ancora una sua capacità di credibilità a livello internazionale, mentre invece alcuni temi come la Siria, per esempio, e come la questione israelo-palestinese, è invece una questione ancora in fortissima sofferenza. Esatto, poi ovviamente tanti cambiamenti ha cercato di portare Obama anche per quanto riguarda gli immigrati e tra l'altro un volto di un nuovo candidato alle presidenziali viene proprio da quell'ambiente di cubani che scapparono da Cuba a Miami ed è figlio di una generazione di cubani, questo Marco Rubio che ora è senatore repubblicano della Florida che si è candidato per i repubblicani. Quindi vediamo questi due servizi di presentazione dei candidati della Clinton e di Rubio. Hillary Clinton scioglie la riserva e gioca d'anticipo annunciando che correrà per la Casa Bianca. Per farlo ha postato un video sul suo sito e lanciato un tweet. 67 anni, ex First Lady, ex senatrice ed ex segretario di Stato, ha ufficializzato per la seconda volta la sua candidatura alle primarie democratiche dopo la sua sconfitta nel 2008 contro Barack Obama. Ogni giorno gli americani hanno bisogno di un campione, spiega nel video. Io voglio essere quel campione, sono candidata alla presidenza, voglio diventare la prima presidente americana, ha fermato Hillary. Il suo primo pensiero va alle famiglie americane. Quando le famiglie sono forti, l'America è forte. Nel primo spot della sua campagna elettorale, tanti esempi di classe media, piccoli imprenditori e c'è anche una coppia gay. Per il momento quella di Hillary è l'unica candidatura ufficiale alle primarie democratiche. L'endorsement di Obama è arrivato ancora prima dell'annuncio ufficiale dell'ex segretario di Stato. Rispetto a Hillary Clinton penso che sarebbe un presidente eccellente. È stato un formidabile candidato nel 2008, una mia grande supporter nelle elezioni generali, un eccellente segretario di Stato ed è una mia amica. Un americano di origini cubane in corsa per la presidenza degli Stati Uniti. È il senatore repubblicano della Florida, Marco Rubio. So bene che la mia candidatura possa apparire improbabile da alcuni osservatori dall'estero, ma l'America, detto, è un paese eccezionale, in cui anche il figlio di un barista e di una cameriera può avere gli stessi sogni e lo stesso futuro del figlio di un miliardario, ha spiegato Rubio dalla Freedom Tower di Miami, dove ha ufficialmente annunciato la sua candidatura alle presidenziali del 2016. Rubio ha lanciato la sua corsa da un luogo simbolico per la comunità cubana, dove negli anni 60 e 70 migliaia di rifugiati, in fuga dal regime di Fidel Castro, venivano portati qui per essere registrati e per ricevere le prime cure. Rubio è figlio di una coppia cubana arrivata negli Stati Uniti nel 1956 durante la dittatura di Batista. Il neocandidato si sente in tutto e per tutto un giovane statunitense pronto a servire il suo paese. Nel XIX secolo una generazione di americani ha trasformato gli Stati Uniti nella prima economia mondiale. Il XX secolo è stato il secolo americano. Oggi è venuta l'ora per la nostra generazione di aprire la strada a un nuovo secolo americano. Ecco, questo servizio ci impone sicuramente di parlare dei nuovi rapporti con Cuba e con il Sud America. Però prima vorrei fare una piccola parentesi. Tu prima hai parlato di Dynasty perché c'è appunto questo ritorno dei Clinton. In realtà ci potrebbe essere anche un ritorno non soltanto dei Clinton ma anche dei Bush. Assolutamente. Infatti il vero avversario di Marco Rubio che tra l'altro lo dico per i nostri telespettatori come giustamente si è detto nel servizio può candidarsi a presidente degli Stati Uniti poi deve vincere le primarie del partito repubblicano perché è nato negli Stati Uniti. Perché solo chi è nato negli Stati Uniti può candidarsi. Per esempio quell'attore che è stato per esempio governatore della California Schwarzenegger non può candidarsi, non poteva candidarsi perché lui è nato in Europa di origine austriaca e quindi Marco Rubio invece si può candidarsi anche se probabilmente nelle primarie del partito repubblicano che poi avverranno fra circa 8-9 mesi non è immediato però già adesso si preparano il vero rivale nell'area repubblicana è Jeb Bush che è il figlio di quel Bush che è stato presidente degli Stati Uniti negli anni 90 e che ha condotto la prima guerra del Golfo che è stato presidente solo quattro anni poi ha perso nei confronti di Clinton di Bill Clinton e poi è fratello Jeb di quel Bush che invece è stato presidente degli Stati Uniti per ben due tornate e che ha fatto la seconda guerra del Golfo e anche dopo l'attacco alle Torri Gemelle la guerra in Afghanistan. Ecco perché è giusto parlare di dinastia, di dynasty perché probabilmente la forza elettorale dei Bush padre, fratello e del clan diciamo così dei petrolieri che è molto forte negli Stati Uniti e nel partito repubblicano potrebbe nel confronto che si aprirà nelle primarie del partito repubblicano magari favorire più Jeb Bush che non questo candidato di origine cubana i padre e la madre sono di origine cubana Marco Rubio che nella sua campagna elettorale già però si propone come alternativa alla Clinton anche perché Rubio ha 42 anni quindi è molto giovane e può incarnare quel sogno americano e perché diciamo la verità probabilmente per l'elettorato medio americano è più facile o è stato più facile eleggere un afro americano come Obama che non magari, lo vedremo l'anno prossimo eleggere una donna perché una donna presidente degli Stati Uniti sarebbe una novità ancora più importante che non l'elezione pure importante a livello mondiale di un nero afro americano come è stato Obama certo che per lo zoccolo duro repubblicano Bush ha un nome e una garanzia quindi insomma sarà davvero uno scontro tra titani in ogni caso c'è come stavamo dicendo prima da vedere come poi verrà proseguita o interrotta la strada aperta da Obama con la sua politica estera perché comunque Obama ha svuotato diciamo un po' gli Stati Uniti da quella patina di potenza imperialista e ha sempre preferito diciamo comunque il dialogo, la diplomazia rispetto alle armi c'è un cambio di passo rispetto anche al passato che non va assolutamente sottovalutato anzi diciamo che il mondo ne ha parecchio bisogno un dialogo aperto abbiamo detto il momento è quello con Cuba finalmente si parla di strette di mano storiche adesso c'è stato l'incontro a Panama è un bel risultato a cui si guarda con molta speranza in realtà l'ago della bilancia pende invece in negativo per quanto riguarda un altro paese che è il Venezuela ora guardiamo questi due servizi uno parla proprio del disgelo fra Stati Uniti e Cuba nell'incontro di Panama e l'altro delle firme raccolte in Venezuela contro gli Stati Uniti che all'inizio di marzo hanno sanzionato alcuni funzionari del governo di Maduro vediamo il Summit delle Americhe a Panama si è aperto con la stretta di mano fra il presidente americano Barack Obama e il suo omologo Raul Castro immagine simbolo e preludio di un incontro bilaterale storico che segna una svolta senza precedenti fra i due paesi è la prima volta che i capi di Stato dei due paesi si incontrano dal 1956 ed è la prima volta che tutti i paesi membri partecipano al Summit ha sottolineato il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon vorrei congratularmi ancora una volta col presidente Obama e il presidente Castro per la regolarizzazione dei rapporti bilaterali ha detto il dialogo è stato al centro anche del messaggio del Papa che ha inaugurato il Vertice il Pontefice ha espresso il suo incoraggiamento affinché il dialogo sincero porti ad una mutua collaborazione Barack Obama e Raul Castro si erano già incontrati e stretti la mano durante i funerali di Nelson Mandela nel 2013 l'incontro formale di oggi sarà la base su cui fondare il definitivo riavvicinamento dei due paesi annunciato già da alcuni mesi 13 milioni di firme per la petizione lanciata contro le ultime sanzioni decise dal presidente americano Barack Obama e contro l'etichettatura del Venezuela come una minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti il 9 marzo Obama infatti ha dichiarato il Venezuela una minaccia straordinaria per la sicurezza del suo paese e ha imposto sanzioni a sette funzionari di Maduro accusati di aver violato i diritti umani dell'opposizione la decisione americana ha provocato una levata di scudi e una grande immobilizzazione tanto che l'obiettivo delle 10 milioni di firme è stato rapidamente superato il Venezuela e noi venezuelani non siamo anti-americani siamo anti-imperialisti ha detto Maduro che considera una vittoria del suo popolo la grande mobilitazione contro Obama le firme verranno consegnate Obama in occasione del vertice delle Americhe che si terrà a Panama il 10 e l'11 aprile il governo venezuelano ha incassato anche un forte sostegno in campo internazionale ma anche moltissime critiche tanto che molti paesi puntano a denunciare Maduro alla Corte Penale Internazionale per violazione dei diritti dell'uomo qui ci sono di mezzo appunto i diritti dell'uomo ma sappiamo che già la stretta di mano ancora tra Obama e Castro rappresenta agli occhi dell'America Latina un passo importante perché comunque assolutamente è il simbolo e tra l'altro ha questo passo in avanti molto importante nella ripresa dei rapporti diplomatici e politici avrà conseguenze anche sul superamento dell'embargo che da sempre gli Stati Uniti hanno organizzato contro l'economia e la società cubana quindi è chiaro che finalmente Cuba nei prossimi mesi ha superato l'embargo non è ancora stanno ancora negoziando e trattando beh tornerà a respirare sul piano economico e sociale e quindi questo è un passo in avanti importante e ancora più importante il significato politico internazionale questo però cosa comporta? Comporta un vantaggio di Obama e del partito democratico all'interno degli Stati Uniti per quella corsa che descrivevamo prima per Hillary Clinton perché la maggioranza anche se risicata dei cubani che stanno in gran parte a Miami in Florida è favorevole al disgelo perché hanno comunque parenti e capiscono che è importante che la loro isola la loro vecchia patria sia sempre più messa dentro un circuito di relazioni normali anche con la società statunitense ed ancora più consenso ha in gran parte dell'elettorato statunitense quindi è una cosa molto buona anche se i repubblicani torniamo lì hanno ancora forti riserve in questa apertura di credito e in questi passi diplomatici e politici che ha fatto Obama Obama in qualche modo allora attenzione per cercare di porre un contrappeso a questa forte apertura nei confronti di Cuba ha stretto un po' il giudizio negativo nei confronti di Maduro perché Maduro è stato vincitore alle elezioni venezuelane di una piccola margine non ha un consenso così grande come aveva prima il suo predecessore e effettivamente all'interno del Venezuela ci sono ancora fosti contrasti e situazioni di non rispetto dei diritti umani quindi il Venezuela che ricordo ha sempre avuto un rapporto preferenziale proprio con Cuba e in un qualche modo ha aiutato Cuba perché l'ha anche sostenuta dal punto di vista del petrolio dal punto di vista energetico perché l'embargo è stato un embargo micidiale nei confronti della società dello Stato cubano da parte degli Stati Uniti e beh ovviamente Obama adesso sta un po' separando o tentando di separare i destini tra Cuba e il Venezuela quindi la cosa valetta anche in questo contesto d'altra parte Maduro fa bene a chiamare il suo elettorato e quelli che lo hanno sostenuto in questo tentativo di fare capire che comunque vuole restare in gioco e quindi la partita è assolutamente tutta aperta e un ruolo importantissimo in questo avvicinamento degli Stati Uniti a Cuba l'ha avuto anche Papa Francesco sappiamo ha un ruolo importantissimo ha avuto e avrà anche per le fasi successive per i nuovi assolutamente sì perché la maggioranza comunque dei cubani ha mantenuto un rapporto con la fede cattolica e con il cattolicesimo anche se ovviamente lì c'è presente anche altre componenti del cristianesimo e poi c'è presente anche una forma di religiosità popolare che non sempre può essere definita una fede diciamo matura perché ci hanno dentro anche tanti richiami a vecchie tradizioni ancestrali la santeria cubana che però va bene a braccetto a Cuba con la religione assolutamente sì che però fa anche l'originalità attenzione culturale musicale letteraria di questo di questo paese quindi è stato importante la diplomazia politica diciamolo non solo religiosa del Vaticano di Papa Francesco in modo particolare perché ricordiamolo Papa Francesco è argentino Papa Francesco è vissuto nel continente latino americano fino a pochi anni fa e quindi sa l'importanza anche simbolica non ovviamente politica economica di un riavvicinamento delle varie parti geografiche politiche delle Americhe e Papa Francesco è protagonista tra l'altro in questi giorni sappiamo alle soglie del centesimo anniversario del genocidio degli armeni proprio di questa affermazione del fatto di aver affermato ricordato questo avvenimento storico che la Turchia appunto ancora non accetta di chiamare col nome di genocidio qua c'è un dibattito storico e anche politico sull'utilizzo di questo termine secondo gli armeni furono massacrati le persone tra gli armeni furono massacrati circa un milione e mezzo di persone per i turchi furono molto meno e si trattò soltanto di una guerra civile che poi dovete pagare lo scotto anche di una carestia quindi ancora la storia si dibatte anche se molti paesi tra cui anche l'Italia hanno ormai riconosciuto che si trattò di un genocidio Papa Francesco ha proprio espressamente dichiarato che fu il primo grande del ventesimo secolo seguito poi dal nazismo e dallo stalinismo esattamente così tra l'altro è molto interessante dire alcune cose la prima che proprio tra l'altro io sono stato uno dei relatori su questa questione del genocidio degli armeni perché nel 98 Pagliarini che allora era della Lega era stato sindaco di Milano ha presentato anche perché la moglie era armena un primo ordine del giorno alla Camera dei Deputati e io fui tra quelli che sostenne diciamo questo avvio di presa di posizione giuridica e politica del Parlamento Italiano e poi la stesura finale l'ho fatta proprio io a prima firma dell'allora presidente del gruppo dei TS che appunto era Mussi e passò nel 2000 quindi nel 2000 ufficialmente la Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno che ripeto io ho contribuito in gran parte a scrivere e poi a presentare e ci fu già allora era il 2000 una forte reazione dell'allora governo turco che minacciò ritorsioni economiche nei confronti dell'Italia e cioè di non acquistare più diciamo così il made in Italy i nostri prodotti industriali agricoli e così via ma perché è così difficile mettersi d'accordo su ciò che storicamente è già passato allora è così difficile perché finché si parla di massacri di crimini che in qualche modo sono orrendi ma non hanno una valenza giuridica internazionale come lo è la parola genocidio e gli stati e i governi anche oggi fanno fatica ad ammettere le responsabilità del passato la Turchia di Erdogan sta utilizzando quello che ha detto Papa Francesco in realtà per la sua campagna politica interna visto che fra mesi si andrà a votare politicamente in Turchia e visto che il governo di Erdogan sta perdendo un po' di consenso a favore di alcuni partiti nazionalisti in questo modo recupera anche il voto dei nazionalisti perché si fa appello a che cosa? A salvaguardare l'onore l'identità nazionale patriottica della Turchia e soprattutto a differenza della Germania che ha riconosciuto di aver avuto responsabilità dirette la Germania nazista ha responsabilità esplicite nel genocidio degli 6 milioni di ebrei nell'olocausto degli ebrei e oggi la Germania non è messa all'indice tutt'altro nella comunità internazionale ma il problema è proprio questo che è difficile per una serie di paesi penso anche anche se non è il termine genocidio in questo caso la parola giusta le responsabilità di Israele Israele non vuole riconoscere di avere responsabilità dirette nella fuga nell'esodo di milioni di palestinesi quando si costituì lo Stato israeliano e non lo vuole riconoscere giuridicamente e politicamente perché perché ci potrebbero essere conseguenze non solo di tipo morale giuridico e storico nel riconoscerlo ma per esempio se io riconosco che non è stato il frutto di uno scontro e di una guerra in questo caso della prima guerra tra israeliani e paesi arabi circostanti per cui la fuga di milioni e milioni di palestinesi era dovuta al clima di guerra che c'era nel 48 49 se la causa è solo lo scontro e la guerra io do le responsabilità a tutte le parti e quindi quelli che sono fuggiti sono fuggiti perché c'era un contesto di guerra ma se invece è che io scelgo di cazzare scelgo di espellere la parola corretta gli palestinesi dal mio territorio e sono io governo governo dell'epoca o organizzazione politica israeliana che organizzo la cacciata in questo caso dei palestinesi ebbe oggi se io lo riconosco non solo sul piano storico ma sul piano politico e giuridico allora questi i figli hanno diritto a ritorno hanno diritto a ritornare nelle loro terre originarie questo ripeto è un caso specifico politologico molto interessante che attenzione in questo caso non riguarda la parola genocidio ecco però domandina allora quale parola potremmo utilizzare in questo caso ma per esempio nel caso dei palestinesi loro stessi i palestinesi la chiamano Nakba e cioè questo grande tragedia di un popolo che viene cacciato dalla loro terra e che però attenzione a differenza del genocidio non è stato sterminato mentre la parola genocidio e così ci aviamo a dare un'informazione credo interessante ai nostri telespettatori nasce negli anni 40 e nasce perché un ebreo che era mezzo polacco e russo sin da bambino si interroga anche sul genocidio degli armeni ma che non allora non era chiamato genocidio bensì per esempio massacro massacro degli armeni che è avvenuto 200-300 mila sono stati massacrati dall'impero ottomano nel 1892 e 94 il vero massacro grosso è stato compiuto nel 1915 1916 all'inizio della prima guerra mondiale da quelli che erano immediatamente socceduti perché l'impero ottomano entra in crisi e sono i giovani turchi i cosiddetti giovani turchi in modo particolare dal ministro dell'interno che era il Pasha Talat che in modo programmatico decide con leggi provvedimenti specifici la pianificazione dello sterminio degli armeni ne sono stati sterminati in modi diversi un milione duecentomila tanti storici faccio l'esempio per esempio di chi vuole approfondire di questo libro ventesimo secolo Niall Ferguson l'età della violenza qui si descrive in che modi già allora i diplomatici europei internazionali statunitensi medio orientali vedono come si pianifica lo sterminio degli armeni che vengono deportati vengono affamati vengono fatti passare per chilometri e chilometri migliaia e migliaia di popolazioni donne e bambini nei deserti per cui muoiono affamati vengono portati in treno vengono scelti i bambini e i ragazzi dai 12 anni in su e scientificamente uccisi vengono violentate le donne e quindi c'è uno stilicidio ma una programmazione decisa dai ministeri dei giovani turchi e questa parola adesso quando il papa ha definito la stessa cosa avviene in altri storici come lo stato criminale genocidio del ventesimo secolo di Yves Esternon ma voglio dire ormai gli storici oppure questo altro libro il secolo del genocidio dove si parte proprio e si riconosce quello che ha detto papa Francesco il genocidio degli armedi quindi soprattutto quello del 1915-16 è il primo genocidio di questo tipo del ventesimo secolo la parola allora non c'era ma è una parola che entra nel vocabolario giuridico internazionale nella letteratura e nella storia internazionale perché a un certo punto un giovane che si chiama Rafael Lefkin che da bambino pensate un po' la storia ha letto Covadis e si chiede come mai gli imperatori romani massacravano i cristiani li portavano a morire mangiati dai leoni li facevano massacrare e crocifiggere e si interrova come mai lì vicino tra la Russia e la Polonia ci sono comunità ebraiche che vengono uccise questo diventa sempre di più studiando un esperto di diritto internazionale fugge dalla Polonia negli anni 20 e 30 impara ben nove lingue e va in Svezia comincia a parlare che c'è un dilitto contro popolazioni specifiche contro popoli che hanno linguaggio identità precise va a Londra nel 1941 sente Winston Churchill che comincia a definire queste cose che Hitler faceva contro gli ebrei ma non si avevano ancora gli elementi come un crimine senza nome e allora colpito dal fatto che Winston Churchill parla di un crimine senza nome cerca di dare un nome negli Stati Uniti diventa un esponente di primo piano del diritto internazionale e scrive un libro fondamentale nel 1943 questo libro viene ripreso dal Washington Post questo libro raccoglie tutta la letteratura giuridica di tutti i piani scientifici che Hitler aveva fatto nei confronti degli ebrei la pianificazione scientifica con atti giuridici usando l'esercito usando metodi usando specificatamente l'idea di annientare l'identità di un popolo e allora gli viene in mente tutti i suoi studi scientifici giuridici di utilizzare questo conio che deriva dal greco genocidio cioè assassino di udentia di un popolo di un'identità però pianificata e pianificata da un potere politico e allora finalmente con questo libro che si chiama appunto Axis Rule ruolo delle potenze dell'asse nell'Europa occupata definisce questo crimine e da quel momento anche l'ONU che viene formata in quegli anni accetta la definizione di di Rafael Hefkin ed entra nel vocabolario internazionale e da quel momento l'ONU comincia a avere convenzioni che definiscono il genocidio questo atto pianificato di annientamento espulsione di un'identità di un popolo attraverso un metodo organizzato e programmato da un potere politico e da uno stato e da quel momento nel diritto internazionale fino ad arrivare oggi al tribunale penale internazionale permanente sappiamo che quando giuridicamente si definisce genocidio questo tipo di crimine contro un popolo allora la comunità internazionale ha il dovere di intervenire per impedirlo siamo arrivati al termine io ti ringrazio Marco e ci vediamo alla prossima puntata arrivederci arrivederci a tutti voi a tutti